E' stato a Scagno Celestini a chiudere con il suo vi racconto Pasolini la decima edizione del Passioni Festival dedicata interamente a Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita, l'attore drammaturgo infatti attualmente è in tour con il suo nuovo spettacolo Museo Pasolini. Io penso che esistano due Pasolini, uno che ha vissuto fino al 75 e uno che ha incominciato a vivere dopo la morte del primo e quindi diciamo che il secondo è quello al quale attribuiamo tutte le possibili definizioni sul mondo. Io credo che vale la pena andare a ripescare il primo Pasolini, insomma non tanto quello che direbbe ma quello che ha già detto e Pasolini sulla guerra diceva che tutto sommato era un pezzo del pensiero capitalista ed è un po' quello che stiamo vedendo per esempio in Ucraina tanto per entrare nel merito ovvero sia alla fine stiamo facendo una guerra per cosa e per chi? Per la libertà davvero? O per il gas, il petrolio o semplicemente per testare le armi che abbiamo prodotto? Filo e rouge di questa decima edizione del Passioni è stata la danza, novità introdotta per l'occasione grazie alla collaborazione con l'Associazione Culturale Aretina, progetti per la danza ed arti sceniche i balletti così hanno introdotto ed accompagnato tutti gli eventi del festival. La danza ci mancava, mancava il passione di feste, avevamo già avuto tante arti e tante attività culturali e la danza è un contributo ulteriore che dà armonia, dà qualità, dà respiro a un festival come il nostro che punta a una cultura a 360 gradi.